Buongiorno, buongiorno, si l'aspettavo, buongiorno, si certo, per il massaggio anticellulite, l'aspettavo, certo, tutto scritto in agenda, i nostri appuntamenti sono tutti scritti in agenda c'è anche un computer ma la carta è sempre la carta, il valore della carta, certo signorina, certo, si, si può accomodare, ecco, perfetto, sì, ecco, sì, l'aparto ovviamente, ecco, sì, com'è, non si preoccupi, guardi, a parte che io ho tutta questa grandissima cellulite non la vedo, però, insomma, se lei mi dice a prevenire per prevenzione, vuol dire per prevenire la cellulite, come no, come no, non c'è problema, io avevo scritto, no, io ho letto massaggio anticellulite, leggendo massaggio anticellulite, quindi questo, pensavo, sì, pensavo di trovare una ragazza che, una persona che avesse della cellulite, mentre vedo qua, cellulite praticamente non ne vedo, eh, sì, ma come no, come no, stanno facendo dei lavori, sì, stiamo ristrutturando il locale, purtroppo è capitato in una giornata così, com'è, si deve assolutamente rilassare, assolutamente rilassare, ecco, è esatto, e sto facendo una gamba, signorina, sto massaggiando una gamba, certo, come va, come va, come si sente, andiamo verso, andiamo verso su, saliamo, 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 come va, come si sente, mi fa piacere, mi fa piacere, bisogna essere un po' energici, signorina, lei cellulite non ne ha, non si giri, non si giri, signorina, lei cellulite non ne ha, però facciamo prevenzione, eh, facciamo prevenzione, certo, a quello che lei mi ha chiesto, piacevole, molto bene, molto bene, come si sente, come sta, bene, rilassata, ha sentito che ho cambiato gamba, sì, mi dica, non si giri, non si giri, non si giri, non non si giri, si mi può dare del tuo, ma certo, io mi chiamo Ezio, lei, che bel nome, non si giri, non mi chiedi, non si giri, perché non si giri, non mi mui, ma so perché non mi puoi da sconosciło, ma mi chiedo, ma le pensando, ma questo massaggio anticellulite, dove poi la cellulite non c'è, vabbè, che lavoro duro, come sta? facciamo un po' gamba destra e un po' gamba sinistra eh, così signorina scusi, guardi che il suo piede è vicino alla mia gamba ho capito, si sta rilassando molto bene strana però c'è un piede vicino alla gamba no no no, tutto a posto, lei tranquilla, bene eh, eh, sì dal tu, del lei, ci siamo dal tu no, ecco, sono un po', sono un po' così sì no no no, ma non c'è assolutamente problema dimmi Simona dimmi del tu, del lei del tu, del lei, ci siamo del tu me l'hai detto tu dimmi Simona, sì io al massaggio anticellulite l'avrei terminato sì ripeto, non è che ci sia tutta questa grandizia praticamente cellulite non ce n'è proprio cellulite non ce n'è Simona eh sì ecco facciamolo un massaggio al un massaggio alla allora girati Simona girati tanto sei sul lettino ecco, ti siedi bravo, così ti siedi ok allora ferma, 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 ferma così, così, così 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 ferma, ecco facciamo il massaggio al collo, questo è il trapezio sì questo è il trapezio ecco qua Simona che fai con la testa? eh, sì va bene tutti i massaggi sono piacevoli eh, certo sì ok le spalle le spalle le spalle belle spalle Simona eh eh sì, certo certo certo, 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 certo Simona ha la mano eh Simona Simona per favore eh Simona ti scivola la mano ti scappa la mano ascolta prima il piede adesso la mano insomma eh sì ma no ci mancherebbe per la carità ci mancherebbe ci mancherebbe come stai? come va? io bene sì bene rilassato eh abbastanza diciamo di sì eh eh vuoi un massaggio ai capelli? Simona è rivenuta qua per per fare un massaggio anticellulite e poi la cellulite non c'è ti ho fatto il massaggio al collo trapezio le spalle adesso il massaggio ai capelli no 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 non è strano io faccio quello che mi chiedi di fare per la carità sì a disposizione come si dice il cliente ha sempre ragione sì sì certo vabbè puoi anche stare stai di fianco mettiti di fianco ecco così di fianco proprio eh di fianco sì eh no no stavo guardando eh sì sì è un bel un bel promontorio no vabbè sì sì certo eh eh sì ti faccio questo massaggio ai capelli da questa parte eh ok cosa sto facendo? niente massaggio ai capelli lato sinistro lato sinistro massaggio ai capelli lato sinistro massaggio ai capelli lato sinistro eh no 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 sono 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 tranquillissimo massaggio ai capelli lato sinistro simona 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 tutto a posto simona ti vedevo che stavi guardando in alto poi gli occhi che si chiudono simona tutto a posto tutto a posto ok com'è? un massaggio al decoltè davanti simona sicura? sì 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 per la carità l'ho detto sì sì il cliente ha sempre ragione però ho delle belle mani non lo so a me sembrano delle mani normalissime sì va bene l'olio lo mettiamo certo allora mettiti di fronte ecco di fronte a me ci sei già sì no i miei occhi che colore sono castani occhi castani i tuoi sono azzurri sì sì anche molto belli che c'entra va bene cominciamo con un po' di un po' di olio un po' di olio così ecco cominciamo con il massaggio il massaggio al decoltè ve l'ho detto stanno facendo dei lavoretti stiamo sistemando eh sì stiamo sistemando il il locale come come fa? mi fa piacere rilassato rilassato rilassatissimo sono rilassatissimo sì Simona Simona la la gamba Simona la gamba ti si muove da solo si 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 non c'è non c'è problema Simona massaggio finito abbiamo fatto di tutto eh si non ho capito cosa faccio? io avrei finito anche di lavorare si tu eri l'ultima cliente sei l'ultima cliente eh quindi usci rire per prendere un caffè insieme si può anche fare si io no non ho non ho altri impegni diciamo che no no si un caffè un caffè e poi un caffè e poi a casa tua scusa 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 a questo punto il caffè non possiamo prenderlo direttamente a casa tua sto dicendo visto che vuoi prendere un caffè visto che vuoi prendere un caffè eh si lo prendiamo direttamente a caffè si lo prendiamo a casa tua al caffè va bene d'accordo no no insomma piedi che andavano mani che si muovevano però insomma io sono sempre tranquillissimo si va bene va bene va bene allora allora andiamo a casa tua si il tempo di di togliermi il il tempo di togliermi il camice e e e e andiamo va bene simona d'accordo no no io sono io sono tranquillissimo e si 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 va bene mi tolgo il camice e andiamo a prendere questo caffè a casa tua a casa tua a casa tua a casa tua o